benvenuti al nostro open house ad inviti oggi sabato 3 ottobre 2020 vi accompagno sono entrati i primi clienti l'idea dell'open house è proprio quella di farli sentire a casa sono liberi di vivere la casa nel modo che preferiscono quando avranno bisogno di qualsiasi domanda da dover fare ecco saremo presenti abbiamo due persone che sono venute all'open house che gentilmente hanno si sono offerte di darci una loro velocissima impressione su quella che è la strategia che sta utilizzando l'agenzia sicuramente c'è avere comunque un appartamento che si presenta già allestito favorisce l'idealizzazione e soprattutto devo dire che è anche piacevole avere un proprio tempo dedicato spesso quello che si nota è che la visita con l'agente immobiliare a fianco è un pochettino limitante perché magari due persone non riescono a comunicare nel migliore dei modi non ho mai visto nessuno fare una quantità di materiale foto e video né così ampio né così di buono livello comunicazione e promozione è tutto perfetto bella l'idea di allestire anche dando la possibilità di eventualmente accostare i pezzi a chi interessa